Ciao astronomi e benvenuti alla Generale Astronomica dell'Unione 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 di 2024 in Cape Town, Sud Africa. Questo evento prestigioso agisce le più brilli in astronomia e in scienza di espace da tutto il mondo. Qui mostrano i loro studi e le scopri, interagano idee e discutono il futuro dell'esterno astronomico. È un'essenziale platform per la ricerca, l'educazione e l'outreazione. Prima Luce Lab è parte di questo grande evento. Di più evidenti, vanno qui la nostra offerta. Speriamo appena cogniz infiltrà uno poço dei punti più importanti qui nell'Unione dell'Unione 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 Argentina. L'Organizzazione di Array di Sqlometro è a construire il più grande raiosciopo di radiosciopo del mondo, situato in Australia e South Africa, supportato da istituzioni e facilità al mondo e cercando di rivoluzionare il nostro compagno dell'Universo. Il Osservatorio di Radiostronomi Norte è un centro di ricerca e sviluppo in USA per il corso di radiostronomi. Dezionano, construiscono e operano i suoi nostri telescopi di radiosciopi di alta sensibilità per usare gli scienziati all'interno del mondo. Il National Aeronautica e l'Administrazione dell'Aeronautica è l'agente iconica che continua per riuscire i bordi dell'esplorazione dell'esplorazione dell'Aeronautica e della scuola scientifica. Il Osservatorio di Radiostronomi Norte è una faccia della fondazione di ricerca nazionale e è responsabile per gestire tutte le iniziative di radiosciopi di radiosciopi e di facilità in South Africa, anche il MIRCAT. Il Osservatorio di Radiostronomi Norte è il centro nazionale per l'Optica e l'Infrarede dell'Astronomi di South Africa. L'Osservatorio di Radiostronomi Norte è stato stabilito in 1972 per condurre ricerca in astronomia e l'astrofisica. Il Osservatorio dell'Astronomico Norte ha un ruolo principale nell'esplorazione dell'astronomico e operano alcune delle osservazioni del mondo più avanzate. L'Osservatorio dell'Osservatorio europeo ha servito di ricerca nazionale per gli astronomi e ha guidato progetti ambiziosi come l'Extremely Large Telescope. L'Osservatorio di Radiostronomi Norte supporta l'Australia in sviluppare il più grande radiosciopo di radiosciopo, l'Array Square Kilometre. L'Osservatorio di Radiostronomi Norte, l'Osservatorio dell'Astronomi e l'Astronomi è una organizzazione australiana responsabile per la ricerca scientifica. L'Istituto nazionale dell'Astrofisica dell'Italia è l'Istituto dell'Astronomi e dell'Astrofisica dell'Italia dell'Astronomi e dell'Astronomi e sarà responsabile della prossima Unione dell'Astronomico che si tratta in Roma in agosto del 2027. E ora passiamo a Prima Luce Lab Booth! A Prima Luce Lab siamo felici di presentare le nostre soluzioni di turnkey per l'Astronomi optica e l'Astronomi. Il nostro focus è sull'educazione, l'outrezzo e la ricerca, aiutando strumenti che rendono l'Astronomi più accessibili. Qui abbiamo le nostre stazioni di osservatorio PLL, con tutte le tecnologie che abbiamo sviluppato per convertire qualsiasi telescopio optica in un telescopio controllo e automatico. e qui ci sono i nostri telescopi di radiotelescopi, designati come turnkey sistemi, per aiutare scuole e università a sviluppare i programmi di radioastronomi e aiutare un modo pratico di interagire in radioastronomi. Siamo felici di contribuire all'avvento dell'educazione dell'Astronomi e dell'outrezzo. Grazie per venire con noi per questa tour dell'Astronomi dell'Astronomi e dell'Astronomi 2024 e, come soltanto, per più di contenuti, per farvi scoprire l'università come un pro, abbiatevi al nostro canale e... ...Clear skies! ...